Passioni e risurrezioni è il titolo del 27esimo festival di musica sacra che inizierà domani a Barcis con un concerto dedicato ai lead sacri e che si concluderà a dicembre a Cividale. Il cartellone presentato ieri si compone di otto concerti, tra cui canti di pace nel mondo eseguiti dal coro Gospel Bridge Choir e il concerto Sacra Risonanza del trombettista Mark Strokausen, accompagnato da un centinaio di ottoni delle bande del Fliuli Venezia Giulia nel Duomo di Pordenone il 21 ottobre.